Come abbiamo detto in apertura, dunque il 20 febbraio celebriamo la giornata nazionale del personale sanitario e socio-sanitario, del personale socio-assistenziale e del volontariato istituita con la legge del 13 novembre 2020 per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da coronavirus. E diamo il benvenuto ai nostri ospiti, lo facciamo appunto con alcune, ecco, due figure impegnate in prima linea dell'opera di Padre Pio Caso Sollevo della Sofferenza, do il benvenuto al primario della geriatria Antonio Greco, buongiorno dottore, benvenuto, e a Giusy Catinella, infermiera dell'anestesia e rianimazione 1, bentrovati, buongiorno, grazie per aver accolto il nostro invito. Dottor Greco, partiamo da lei, sono passati quattro anni da quel 20 febbraio del 2020, appunto giorno della scoperta del paziente 1, l'opera di Padre Pio Caso Sollevo, il suo ospedale fin dai primissimi giorni della pandemia si è mobilitata per affrontare il covid-19 ripensando a strutture e modi di lavorare. Che ricordo ha a lei di quei giorni? Giorni frenetici ma anche bui? Sicuramente, sembra passato tanto tempo ma in realtà era soltanto ieri. La geriatria in particolare ha sempre avuto una vocazione anche strutturale dedicata alle malattie infettive con la possibilità di avere delle stanze più piccole e quindi da subito è stata catapultata in questa emergenza. Certamente è un modo diverso di essere medico, un modo legato anche al fatto che per la prima volta percepiamo l'idea di non avere i farmaci, di non conoscere la malattia e quindi di affrontare il paziente veramente con poche armi. Questo ha generato sicuramente tanta paura, preoccupazione e devo dire anche umanamente parlando era cambiato anche il tipo di approccio. Noi siamo molto abituati a essere vicini ai malati, a toccarli, a visitarli. Improvvisamente tutto questo sembrava rallentato e allontanato da tute e caschi e tutto questo era anche complicato dalla preoccupazione del personale, della paura del contagio e dall'altra parte dalla paura dei pazienti non farcela. Quindi lo ricordo come un momento psicologicamente molto impegnativo, ma nello stesso tempo come un momento in cui è stato molto facile e forte ritrovare una motivazione. Stiamo vedendo delle immagini direi straordinarie perché ovviamente ci riportano ad un periodo che tutti vorremmo dimenticare, che ha segnato davvero in negativo le nostre vite e sono la testimonianza anche di quello che lei stava dicendo, dottor Greco, di questa mancanza di contatto che purtroppo è una prerogativa, potremmo dire, dell'ospedale di Padre Pio per le ragioni che tutti ben conosciamo e che il Covid in qualche maniera ha messo a dura prova. Dicevamo prima, mentre ci preparavamo per questo momento di diretta, che anche Casasollievo poi pochi giorni dopo, il 20 febbraio, ha scoperto il suo paziente 1 ed è una storia anche molto particolare che io personalmente non conoscevo, non so se anche te Paola avevi sentito di questa storia del paziente 1 di Casasollievo. Prego dottor. La situazione era questa, era un signore di San Marco che aveva una storia di cardiopatia e presentava un quadro molto simile allo scompenso. Le immagini del torace erano suggestive per Covid, mancava allora il criterio topografico. In realtà semplicemente era che il criterio topografico era poi col senno successivo legato al fatto che i suoi familiari contagiati a Milano erano tutti venuti a trovarlo. E nel giro di un paio di giorni questo ha prodotto la morte non solo di quel paziente ma di buona parte di quella famiglia. E questo è stato qualcosa che veramente non avremmo mai voluto vedere e che grazie a Dio, grazie ai vaccini e ai farmaci non abbiamo più visto recentemente. Giussi Catinella, infermiera appunto del reparto di rianimazione ed anestesia 1 di Casasollievo della Sofferenza. Lo stiamo vedendo anche da queste immagini. Gli operatori erano tutti quanti bardati, a stento si poteva riconoscere sì dallo sguardo. A voi è stato chiesto uno sforzo enorme durante i giorni della pandemia che molti hanno pagato anche con la vita, molti colleghi e molti colleghe non ce l'hanno fatta. Con quale spirito vi siete approcciati a questa tragedia che davvero ci ha coinvolto tutti? La mia esperienza parte sostanzialmente dal reparto, direttamente dalla seconda ondata perché alla prima ondata con il paziente 1 avendolo isolato di nostra competenza rianimatoria mi sono infettata. Quindi ho fatto 90 giorni di isolamento e 11 di ricovero presso le malattie infettive del nostro ospedale. Dopodiché sono rientrata in servizio, ho affrontato tutta la seconda ondata, immersa così, questo è il nostro reparto di rianimazione, dove poi ho avuto a che fare direttamente e affrontato l'altra faccia della medaglia in modo assistenziale, i nostri pazienti che arrivavano e molti colleghi, anche chi del 118, chi del soccorso dell'elicottero. Quindi insomma vedere, uscita io da una situazione di rischio al limite e vedere poi venire meno anche altri colleghi, altre persone civili eccetera, l'effetto è stato alquanto devastante. Il problema anche era non poter riconoscere, parlo come esperienza da ricoverata, chi avevo di fronte proprio perché il personale era tutto abbardato e lì tu avevi bisogno del conforto, di sapere chi avevi davanti, di riconoscere qualcuno di familiare che ti era proibito in quel momento. E poi l'esperienza invece diretta, assistenziale, non c'erano parole per confortare perché le persone, i nostri colleghi sapevano anche quello a cui andavano incontro, chiedevano l'aiuto a noi, ma noi eravamo impotenti alla fine di fronte a una situazione che degenerava da momento per momento. Voi però vi siete ingegnati, stiamo vedendo qualche immagine, scrivendo insomma anche i vostri nomi sui camici. Ma il problema era anche dopo un'oretta, due, in quelle condizioni si creava una condensa all'interno della tuta, delle maschere, quindi appannaggio, disagio e anche non sempre riuscivi a leggere i nomi, ci si chiamava così al momento, si stava tutti lì insieme, purtroppo era un lavoro continuativo, senza sosta. Poi entrambi siete stati pazienti, entrambi avete avuto il Covid appunto nel momento davvero più critico, più difficile ed entrambi avete operato sul campo, quindi la faccia di una doppia medaglia. E tra l'altro tra le immagini che sono rimaste nella storia c'è quella di quella infermiera, se non ricordo male, con i segni della mascherina. Presumo che sia anche un'esperienza vostra. Sì, lasciava i segni, sì. Tante ore di lavoro fuori da... un modo diverso di lavorare, competenze condivise. La geriatria aveva 20 posti letto di terapia intensiva, era completamente cambiata. Oltre a noi lavoravano con noi un rianimatore per turno, però questo poi ha gettato il seme di tante cose che sono nate. Oggi noi abbiamo una terapia intensiva geriatrica grazie anche a quell'esperienza. E mi piace anche pensare un'altra cosa, la dico, ecco, immaginando di non essere medico, è che molti di noi si sono contagiati, nessuno di noi è morto. E forse il nostro datore di lavoro una mano ce l'ha data. E in effetti io al datore di lavoro voglio arrivare in questo momento, perché l'assistenza al malato nell'ospedale di Padre Pio, nella casa sollievo della sofferenza, davvero è un, come diceva Padre Pio stesso, un riflesso del Cristo, del Cristo povero. E allora, in epoca di pandemia, viste anche le immagini e il vostro racconto, come l'avete messo in pratica lo spirito del fondatore, che ritorna sempre nei discorsi quando si parla di casa sollievo, ma penso che in epoca di pandemia sia stato ancora più forte? Guardi, la domanda è davvero molto difficile. Abbiamo cercato, per quello che abbiamo potuto, di portare l'affetto, la solidarietà, la presenza dei familiari attraverso i mezzi dell'informatica, il supporto anche degli psicologi che ci hanno aiutato, senza aver paura, vestendosi anche loro. E questo è qualcosa di enorme. Quello che qualche volta abbiamo visto è che riuscire a essere vicini in quei momenti di grande paura, di pericolo per la propria vita, di fame e d'aria, è stato qualcosa che alla fine è diventato quasi automatico. Forse non ha nemmeno una spiegazione, ma è proprio legato al rapporto particolare di questo luogo, che comunque ti segna al di là di quello che ciascuno di noi è. Credo che questo sia forse anche un dono e una fortuna, credo, aver lavorato e lavorare in questo posto. Immagino non sia facile ripercorrere quelle giornate, quindi rivivere quei momenti, come dicevamo prima, bui e tragici. Allora, vogliamo fermarci qualche istante. Prendiamo fiato e poi ritorniamo di nuovo insieme con la testimonianza dei nostri ospiti. Eccoci ritornati in diretta. Dunque, 20 febbraio, la giornata dedicata a tutti i sanitari in prima linea nella lotta al Covid. Ne stiamo parlando con due esponenti dell'opera di Padre Pio, la Casa Sollievo della Sofferenza, il dottor Antonio Greco, primario di geriatria, e Giussi Catinella, infermiera del reparto di anestesia e rianimazione. Io da Giussi vorrei continuare la nostra chiacchierata, che poi è anche un riflettere, insomma, su quello che abbiamo vissuto tutti quanti insieme, chi più chi meno. Abbiamo parlato del datore di lavoro, del vostro datore di lavoro, del nostro datore di lavoro, perché poi alla fine è unico, Padre Pio, da Pietrelcina. Vorrei chiederle quanto vi hanno sostenuto in quei momenti durissimi, ci sono state poi varie fasi, sappiamo la prima ondata, la seconda ondata, ma quanto vi hanno sostenuto la preghiera, la fede e anche l'aiuto di Padre Pio in quei momenti così tragici? La fede è personale per tutti, ognuno la esprime a modo suo, ma in quei momenti lì non c'era, paradossalmente non c'era il tempo di rivolgere una preghiera, cioè fermarsi e dire, formulare una preghiera, ma durante la nostra attività, nei nostri reparti, nei corridoi, in ospedale, c'è sempre un'immagine del santo, per cui la preghiera diventava uno sguardo, ci si incontrava con gli occhi del santo e lui quasi a dare per scontato l'aiuto, a chiedergli l'aiuto e riceverlo, dandolo per scontato, dire ma che sta succedendo, con me possiamo adoperarci, cosa possiamo fare per poter salvare più persone possibili. Andavamo sempre a scontrarci, a imbatterci verso un'impotenza, poi anche molti riuscivano a uscirne, grazie a Dio, ma la supplica era quella di, almeno, anche parlo per rispensa personale, guardare la prima immagine del santo che avevo davanti e chiedere il conforto, l'aiuto per noi e per chi avevamo davanti. Quindi era più uno scambio, una fede di sguardi, una fede di pensiero costante, non c'era un momento specifico di aiuto, di richiesta di aiuto, ma si chiedeva quasi prepotentemente, quasi dandola per scontata. Direi quasi costante a questo punto. Sì, un filo costante, continuativo di supplica e di sostegno, perché era una cosa più grande di noi, per cui eravamo da una parte impreparati, dall'altra immersi e sempre nello sforzo di adoperarci al meglio possibile. Dottor Greco, mi ha colpito molto quello che ha detto prima, è stato gettato un seme, perché appunto con il Covid, le diceva, è stato gettato un seme che sta portando già i suoi frutti. Questa è una sfida costante, direi quasi perenne, alla quale siete chiamati. Guardi, lo è assolutamente. Credo che questo sia forse qualcosa che in qualche maniera mi sento che tutti quanti noi dobbiamo al dottore di lavoro. Intercettare il bisogno, cioè la domanda, il bisogno di salute delle persone che arrivano in condizioni per esempio di emergenza e urgenza. Consideriamo che due terzi di queste persone sono oltre 65 anni. Sono loro che affollano il pronto soccorso e che arrivano in condizioni davvero critiche, creando problemi di gestione ai rianimatori e a tutti i reparti sia medici che chirurgici. Ecco, riuscire a prendere quell'esperienza fatta di tanto stress, ma nello stesso momento anche di una forte motivazione nella percezione che il fattore X che era l'uomo o l'uomo che in qualche maniera mediava l'azione di qualcun altro, e parlo sempre del datore di lavoro, sicuramente è stata una spinta enorme e ci ha fatto ritrovare anche tanta motivazione. Chiaramente è molto facile quando tutto va bene, ecco, loro gestiscono l'iperacuto, poi questo iperacuto viene da noi e tutto va bene, siamo tutti contenti, siamo bravi, le famiglie ci ringraziano, ci ringraziano anche col supporto. Qualche volta non sempre questo ci è permesso, nonostante questo molte persone comprendono lo sforzo e l'impegno che c'è e ci ringraziano lo stesso e questo è un elemento ancora più forte che ci permette di andare avanti. Però ecco, senza quell'esperienza probabilmente tutto questo oggi non ci sarebbe stato. Noi dicevamo in apertura che la parola crisi, crisi sanitaria in questo caso deriva dal greco opportunità, crisis. Quello che sta dicendo lei è da questo punto di vista la rappresentazione plastica di quanto abbiamo passato in quel periodo, di quanto stiamo probabilmente ancora passando, perché oggi c'è un approccio diverso al Covid e allora la domanda viene naturale come vi approcciate oggi a questa malattia che è comunque ancora presente in mezzo a noi e è diventata endemica, potremmo dire. Guardi, io non so, posso raccontare la mia storia così glielo racconto da paziente, ma è molto semplificativo. Ho avuto altre due volte il Covid, dopo il vaccino è stato un raffreddore. Tranne qualche raro caso, anche i pazienti che successivamente sono stati ricoverati e che in qualche maniera hanno avuto la fortuna di ricevere, sia dal punto di vista farmacologico, perché in quel momento le evidenze scientifiche ci hanno portato a vaccini, a trattamenti con monoclonali, a farmaci molto più specifici, ma nello stesso tempo realmente la maggior parte di loro sperimenta un livello di malattia che è veramente molto molto basso e quindi il sistema non è più andato sotto stress né dal punto di vista del paziente e nemmeno delle strutture sanitarie che sono state chiamate a governarle. Esiste ancora una mortalità, ma è una mortalità legata soprattutto a condizioni di estrema fragilità che preesistono l'infezione. Potremmo quasi dire che più che una vera mortalità per Covid è una mortalità per comorbidità. Giusei Catinella, il dottor Greco parlava di spirito, di motivazione, di collaborazione. Il Covid ha cambiato anche il nostro modo non so se è di approcciarci alla vita, ma sicuramente anche il modo di lavorare. Il vostro in che modo è stato cambiato, se possiamo dire? Ecco, in qualche modo, alla luce di quanto avete vissuto, è cambiato il vostro modo di approcciarvi al paziente o di lavorare all'interno di questi reparti abbastanza, ecco, difficili? Beh, sicuramente sì, qualcosa ha cambiato in ognuno di noi l'approccio assistenziale, anche se la rianimazione, la tipologia di paziente è sempre critico. Per cui, da una parte, sapevamo in tempo di pandemia, sapevamo che la causa era il Covid e quindi non avevamo neanche le conoscenze o le modalità di approccio necessarie per fare il massimo per il paziente. Ma purtroppo la rianimazione è un reparto dove sostanzialmente tutti i giorni si continua a vivere l'esperienza del Covid perché le patologie respiratorie sono sempre al limite della sopravvivenza, per cui interveniamo come se avessimo davanti l'esperienza ancora del Covid. Sicuramente l'attenzione è diversa, sicuramente adesso, riallacciandomi al discorso del dottor Greco, l'approccio verso il Covid non ci mette tanta paura come prima, come all'inizio. Noi abbiamo un box per l'isolamento, tuttora isoliamo pazienti con Covid, ma alla base con patologie già ormai ai limiti purtroppo del fine vita. Per cui, se ci penso, l'assistenza sembra non essere mai cambiata. È cambiata la modalità, la tipologia, il modo di vivere dentro l'ambiente che sicuramente è diverso dai due anni del Covid, della pandemia. Quando ci si ricovera dagli operatori sanitari, dai medici, ci si aspetta sempre una risposta positiva, di positività, per quanto può essere la propria malattia o meno. Tante volte poi non ci si chiede, o meglio, non si chiede agli operatori sanitari se stanno bene, se lavorano bene, se in qualche maniera hanno paura. E io la domanda che voglio fare, voi durante quel periodo avete avuto paura di morire? Non so chi vuole rispondere per primo. Sì, io ho avuto paura. Devo dire che la cosa che ricordo è anche la fame d'aria, che è una sensazione estremamente sgradevole. Ho avuto paura per me, ho avuto paura anche per la mia famiglia che avrebbe perso comunque il sostegno. Nel momento in cui poi sono stato meglio, questa cosa è passata. ricordo anche che una delle sensazioni superato il momento più difficile era anche il senso di claustrofobia che si creava. Io sono stato super assistito perché sono stato stracoccolato nel mio reparto dai miei infermieri che mi portavano alla colazione. Devo dire, vabbè, insomma, mi hanno voluto veramente molto bene. Però questa cosa deve avere da un lato la finestra chiusa con la grata e dall'altra parte la porta sempre chiusa effettivamente mi ha creato qualche problema a lungo andare. Io sono stato 28 giorni ricoverato nel mio reparto e devo dire che di quell'esperienza ricordo superata la fase più brutta anche questo senso di veramente di limitazione proprio dello spazio, della capacità di muovermi. Giuseppe? Confermo, confermo. La mia esperienza è partita col primo paziente e dopo due giorni ho avuto sintomatologia molto marcata. Non c'erano farmaci segnalata al Dipartimento di Igiene e Prevenzione di Foggia che monitorava giornalmente con due chiamate al giorno l'andamento dei sintomi. L'unico consiglio che mi davano tachipirina e 118 ambulanza. Noi non veniamo, non è venuto mai nessuno a casa. È venuta solo una squadra di San Marco che andava in giro a tamponare i civili e vennero a tamponarmi e poi a confermarmi la positività al Covid. Anch'io difficoltà respiratorie però avevo più paura a ricoverarmi che andare verso, diciamo, non a morire, però, insomma, non sapevo che cosa stesse succedendo. Però mi sentivo più tranquilla a casa e gestirmi, anche in base all'esperienza mia di rianimazione con il monitoraggio dei parametri vitali e confrontandomi con i colleghi la quale vicinanza è stata super. Tutti mi hanno, diciamo, contattata perché purtroppo nessuno poteva accedere in casa. Mi hanno contattata, sostenuta, consigliata tra i miei medici e i miei colleghi. Però poi c'è stato un momento in cui non riuscivo neanche più a rimanere in casa e sono stata ricoverata in malattie infettive nel reparto del dottor Greco. Tra l'altro, scherzando, noi dicevamo il 2020 è stata una delle primavere più calde penso di sempre. Il mese di aprile è stato bellissimo. Io lo dico perché ero anch'io positivo in casa, uno dei primi qui a San Giovanni e quindi è davvero difficile poi la voglia di evadere, insomma. Assolutamente, era fortissimo. Assolutamente. Questa giornata le vostre testimonianze hanno davvero riassunto il senso della giornata di oggi. Il 20 febbraio appunto si vogliono omaggiare tutte le professioni mediche e sanitarie. Chi è in prima linea sempre, non è stato solo in quei giorni ma è e continua a esserlo sempre. Quindi grazie di cuore davvero per le vostre parole e per la vostra testimonianza. Grazie. Grazie. Andiamo in pubblicità, ci fermiamo e poi proseguiamo il nostro programma.